E' stata provocata probabilmente dall'accensione di una lampadina l'esplosione di una taverna satura di gas che ieri sera ha causato la morte di Piero Marino, 63enne, ex gestore del bar di Miano, nelle campagne della frazione di Sardinara di Teramo. Nello scoppio è rimasta ferita la moglie, 60enne, che ha riportato le gerustioni. Il tragico incidente si è verificato attorno alle venti, mentre i conugi si apprestavano a cenare nel locale attivo alla loro abitazione, un garage con annessa cucina e saletta. L'esplosione si è propagata dalla cantina fino a sopra il tetto, investendo in pieno il 63enne, danneggiando gli infissi e scoperchiando il tetto in lamiera del locale garage. I primi a intervenire sono stati i parenti che abitano nello stesso agglomerato e poi il personale del 118. Marino era ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi, immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini, dove però poi l'uomo è deceduto poco dopo. Sulla tragedia la procura ha aperto un'inchiesta e gli accertamenti dei vigili del fuoco dovranno fare chiarezza sull'esatta dinamica e sulle cause. Per il momento l'unica certezza è che all'esterno di un giardino c'è un bombolone del GPL, di quelli solitamente installati per uso casalingo. Da stabilire la tipologia dei collegamenti esistenti tra il bombolone e il prefabbricato, secondo alcune voci non confermate, sembra che nei giorni scorsi l'uomo avesse segnalato una perdita di GPL. Piero Marino per anni aveva gestito un bar nella vicina frazione di Miano ed era descritto da tutti come persona sempre disponibile. Dopo aver gestito il bar aveva lavorato anche per un'azienda privata di poste e da poco tempo era andato in pensione.